Per quelli che non l'hanno già copiato vi do pochi secondi per farlo, ve lo commento quello che voglio fare è verificare questa formula qua con un esempio, ok? Quindi l'esempio che prendo è un cavo grassiale grazie Io voglio verificare questa formula con un esempio Ok? E' un esempio Quindi c'ho un certo volume in cui c'è un certo campo magnetico E voglio calcolarlo e dimostrare che per la forma che io ho scelto Equivale a un mezzo Li quadro dove la I è il coefficiente di autoinduzione E la I è la corrente che sta circolando perchè senza corrente non avete campo magnetico In questo contesto Poi questa è una corrente di conduzione Poi parleremo penso oggi stessi domani delle correnti di spostamento Allora la forma che voglio consigliare è un cavo coassiale E' al primo di raggio diverso Quindi quello piccolino ha raggio A piccolo Quello esterno ha raggio B piccolo Per semplicità supponiamo che la corrente di andata nel conduttore interno sia superficiale Si è una corrente che circola sulla superficie Quindi il campo magnetico all'interno del conduttore interno è 0 E invece questo va il campo magnetico in funzione della distanza dall'asse Ok? Dall'asse di questo sistema di cilindri coassiali E quindi di nuovo questa distanza dall'asse Attenzione Quindi per distanza inferiore al raggio del conduttore interno Il campo magnetico è 0 in questo esempio Perchè ho immaginato che la corrente I di andata sia solo sulla pelle del cilindro Non dentro il cilindro Come contribuirebbe a questo calcolo? Un'eventuale densità di corrente qua dentro Quindi con una corrente che vada anche nel volume lo faremo all'orale Quindi generalizzate questo colto Quindi questo è il campo magnetico nell'intercapedine E fuori dal cilindro esterno il campo magnetico è 0 Perchè? Perchè la legge di Ohm La legge di Ohm La legge di Ampere dice che se prendete una curva chiusa La circuitazione di B sulla curva chiusa è uguale a 1,0 per la corrente concatenata Quindi se voi prendete una grande curva di Ampere Che comprenda anche il cilindro esterno E' chiaro che la corrente concatenata è la somma algebrica della corrente di andata e della corrente di ritorno E visto che sono uguali la corrente concatenata ma di segno opposto Se ne è una somma algebrica quella di andata avrà un segno opposto alla corrente di ritorno Nella formula di Ampere Ecco che la corrente concatenata è 0 e quindi il campo magnetico è 0 esternamente D'accordo? Quindi avete un campo solo nell'intercapedine Quindi voglio calcolare il coefficiente di autoinduzione E allora considerate, questo ovviamente è un cavo che ha una sua lunghezza Considerate un tratto Ecco un tratto di lunghezza L Dove L è meglio indicarlo con un lettera piccola E quindi immaginate la superficie questa qua Quella superficie là E calcolate il flusso del campo magnetico attraverso quella superficie là Quello è l'autoflusso Come cambierebbe se ci fosse corrente anche all'interno del conduttore interno Questa superficie rossa dovrebbe essere stesa fino all'asse E faremo questo controllo orale Pensateci un attimo Quella è la superficie rossa Voglio calcolare il flusso attraverso la superficie Quindi il flusso attraverso la superficie rossa Come lo organizzo? Lo organizzo nella sommatoria del flusso di varie strisce Perché i punti che hanno la stessa distanza dall'asse Questo è l'asse I punti che hanno la stessa distanza dall'asse Hanno lo stesso campo magnetico E quindi organizzo il controllo in strisce Questo controllo l'abbiamo già fatto E quindi sapete che questo è il campo magnetico Quindi Mu0I2pi greco La dipendenza da 1 sulla distanza dall'asse Questa è la larghezza L'area della striscia com'è? È larga a delta x Ed è lunga L Quindi il prodotto di L per delta x E' l'area di questa striscia qua Questa quota qua è L Questa quota qua è delta x Quindi delta x per L vi da l'area E poi dovete moltiplicarlo per il campo magnetico Quindi dei punti di quell'area lì Dovete sommare su tutte le strisce Per avere una stima dell'autoflusso E questo è un colto che abbiamo già fatto Vedete che c'è la lunghezza del tratto E il logaritmo naturale Perché questo diventa l'integrale di 1 su x L'integrale di x L'integrale di 1 su x Che è il famoso logaritmo naturale E quindi questa è la formula Come vedete questo è il coefficiente di autoinduzione Del tratto di lunghezza L Quindi uno può parlare del coefficiente di autoinduzione Per unità di lunghezza E stamattina che ero veramente mezzo addormentato L'avevo indicato con L cappello Tanto per distinguere da questo Quindi è L diviso la lunghezza del tratto Quindi questi sono un certo numero di Henry al metro E vedete che quando dividete per L dicolo La lunghezza del tratto Avrete qualcosa che prende le sue dimensioni Dalle dimensioni di mu zero Questo ovviamente è l'argomento di una funzione Trascendente adimensionale E le dimensioni di questa roba Viene dalle dimensioni di questo prodotto Quindi quando dividete per la lunghezza Vi rimane le lunghezze di mu zero Quello mettetelo da qualche parte Scrivetelo da qualche parte Adesso calcolate questo signore qua Ok? Questo è un'integrale di volume E' un'integrale di volume D'accordo? Allora a rigore voi state integrando In jx da y e z Però questo integrando Non dipende Dipende in un modo molto particolare Da x, y e z Tutti i punti che hanno la stessa distanza dall'asse Hanno lo stesso valore Quindi vi conviene organizzare Il calcolo dell'integrale di volume In un modo intelligente Quindi quello che farò E' ridividere il volume Qual è il volume L'intercapedine Tra il cilindro interno di raggio A E il cilindro esterno di raggio B Organizzo l'intercapedine Il volume dell'intercapedine Il volume dell'intercapedine Come la somma di tanti volumi Di cilindri Forse è più facile guardare il disegno Individuatelo in rosso Una corona circolare E poi immaginateva a lungo L La lunghezza del tratto di calcolo Che stiamo considerando Quindi dovete immaginare Un cilindro rosso Un cilindro rosso Che ha una certa lunghezza L E ha una certa... La sezione trasversale di questo cilindro Ha una certa area C'è un raggio interno E un raggio esterno Quindi cos'è sto rumore? Hello? Silence Silenzio D'accordo? Quindi L'area rossa della sezione trasversale Di questo cilindro Che ha un certo spessore L'area è 2πRI per ΔRI Quindi 2πRI è lo spessore D'accordo? 2πRI è la circonferenza La circonferenza Il tuo spessore Vi da l'area rossa Poi dovete moltiplicarlo per L Per avere il volume del cilindro D'accordo? Quindi qual è il volume del cilindro? Tutti i punti che sono all'interno Di quel cilindro Condividono uno stesso valore di B Qual è il problema? Coraggio! Che c'è? Che c'è? Passi slow Cosa c'è? Allora perché Tagli una gomitata Poi propaga una gomitata Lui c'è la propagazione della gomitata Finchè non colpisci uno che è completamente innocente Per favore dai Questo è il valore di B al quadrato 1 diviso 2 più 0 ovviamente Cioè il valore comune di B del campo magnetico In tutti i punti all'interno di quel cilindro rosso È condiviso E quant'è? E mu zero i diviso 2 pi greco ri Cioè questo è il valore del campo magnetico Per tutti i punti dentro quel cilindro rosso Va elevato al quadrato Perché sto calcolando questo oggetto E va premontiplicato per 1 su 2 pi greco mu zero Questo è l'oggetto Quindi sto stimando questo integrale di volume Come la somma del contributo da vari cilindri Ognuno di spessore ri E metto assieme i pezzi con un po' di pazienza Tiro fuori dall'assommatorio tutto quello che non dipende da r Che è la variabile su cui integrerò Quindi porto fuori l'1 su 2 pi greco mu zero Porto fuori mu zero i al quadrato 2 pi greco al quadrato Eccolo qua E che cazzo? Cos'è sto rumore? Ma cosa c'è? Io non vado avanti C'è qualcosa che sto dicendo che non capite? Vi state interrogando Cosa sta? Cos'è sto passaggio? Non capisco Qual'è il motivo delle chiacchierate? Non lo capisco Questo in realtà è il tempo perso Non potrei cancellarlo perché è stato su per 3 ore no? Dalle 11 alle 2 è stato su per 3 ore Avete tutto il tempo di trascriverlo, capirlo e cancellarlo Invece sto facendo la cortesia di Mestizia Decaunarlo Quindi portate fuori dalla sommatoria tutto quello che non dipende da r Guardate, avete 1 su r quadro, d'accordo Avete questo r e avete delta r Tutto il resto va fuori Ok Che stress L'ugorio della vita moderna Voi siete troppo giovani, non conoscete quella pubblicità Per un po' hanno fatto carosello in tv Avete visto? C'era il famoso carosello del signore Che è seduto in mezzo alla piazza con le macchine Gira attorno Con il suo tavolino E si beve un cinema Ok? Lascio a voi verificare tutte le eliminazioni Ovviamente questo rimane una sommatoria di 1 su r Per delta r Quindi questo qua diventerà il solito integrale No? L'integrale in dx T1 su x Che è il logaritmo naturale Con gli estremi da a piccolo a b piccolo Cioè state integrando da qua a qua Ok? E quindi raccogliete i pezzi e vedete Vi rimane questo E ovviamente per ispezione Tutta questa roba qua Questa roba qua E' proprio questo E quindi ho verificato D'accordo? Che l'integrale di volume Di 1 su 2 mu 0 Modulo quadro di b E' proprio un mezzo L per i 4 D'accordo? Un altro esercizio Così Prefasso le domande Visto che Perchè no? Vi state dando motivo Di farvi un sacco di belle domande Orale Questa è una sfera di rame Sfera di rame Il raggio R Isolata Non c'è altro C'è solo l'infinito D'accordo? C'è solo l'infinito Conoscete la capacità della sfera? L'abbiamo fatta Questa è la capacità della sfera Accoppiata capacitivamente con l'infinito Tutte le linee di campo elettrico Vanno dalla sfera All'infinito Ovviamente il capacitivo è intero Completo Quindi Verificate Che è un integrale Che è un integrale Anche per questo caso Come abbiamo fatto stamattina Dove abbiamo verificato Che il calcolo dell'integrale di volume Del campo elettrico Tra due piastre Tornava no? Fatelo anche per la sfera isolata Fatelo Un esercizio di calcolo Di un integrale di volume Di quelli semplici Quelli semplici Verificate Che questo E' uguale A un mezzo Cv quadro Dove il C E' questo E dove il V Questo è 4 Pi greco Epsilon 0 E' E dove il V E' questo Perchè questa è la differenza Di potenziale Che c'è tra la superficie Della sfera E l'infinito Verificate Cioè che in questa formula Cv quadro Questo va inteso Come la differenza di potenziale Ai capi del condensatore Quindi il condensatore Di una sfera isolata E' la superficie Della sfera E' la superficie All'infinito Quindi qual'è la differenza Di potenziale E' quella qua E' qua All'infinito Visto che la sfera E' racchiudibile In una scatola Di dimensioni infinite Si sceglie Normalmente Il potenziale L'infinito uguale a 0 Quindi quel delta V Che appare qui E' proprio Il potenziale Per i punti della sfera Meno quello dell'infinito E quindi Fate il contro Come si fa? Come fareste? Vi alzate e venite a un altro appello O adottate le mani che cercate di pensare? Allora siccome voi conoscete il campo elettrico di una sfera Perché abbiamo usato la resi di Gauss per ridurre la sua forma Sono tante cose che sapete Questo signore lo sapete E sapete che il campo elettrico Come dipendenza dalla distanza E per l'appunto 1 su 4 Pi greco Epsilon 0 La carica che è sulla sfera Diviso R quadro Questa è la dipendenza Del campo elettrico Per un punto qua Un certo punto che ha una certa distanza R Dal centro della carica Quindi tutti i punti che hanno la stessa distanza Dal centro della carica Avranno lo stesso campo elettrico Quindi qual'è il modo migliore per organizzare questo conto? Come suddividiamo il volume? Quale volume? Questo volume qua lo ridisegno Perché adesso è chiaro Questo posso cancellarlo ormai Qual'è il volume? Dov'è il campo elettrico? Se questa è la vostra sfera di rame E questo è l'infinito Il campo elettrico qua non c'è Il campo elettrico è qua Nell'intercapedine se vogliamo dire Tra la superficie della sfera e l'infinito E' là che c'è il campo elettrico Allora questo volume Come lo dividiamo per fare una stima? Qual'è la strategia? Come vogliamo fare la stima? La stima è di fare una sommatoria Dei contributi Ma come sono le forme? Qual'è la forma più logica? Sono dei gusci sferici Sono dei gusci sferici Ecco un guscio sferico Questo è un guscio sferico Forse avrei dovuto disegnarlo in rosso Per avere la stessa condizione cromatica Dell'esercizio di là Quindi questo è un guscio Che ha un certo spessore delta ri Questo è il iesimo guscio Qual'è il volume dell'iesimo guscio? Tutti i punti all'interno di quel guscio Condivideranno lo stesso campo elettrico Questo è il campo elettrico Del iesimo guscio Facciamo così Quello è il campo elettrico Di tutti i punti che stanno nell'iesimo guscio Quindi devo prendere questo Devo fare una somma Su gusci Ho il 1 su 2 Epsilon 0 Per il campo elettrico Elevato al quadrato del guscio Quindi è 1 su 4 Pi y Epsilon 0 Q Diviso ri Al quadrato Tutto questo va al quadrato Adesso devo moltiplicarlo Per il differenziale Quello che mi rappresenta Il volume del guscio Il volume del guscio cos'è? Di nuovo come fa? Pesa Qual'è il volume di una sfera di raggio r? Il volume è 4 terzi pi greco r cubo Quindi qual'è la derivata del volume Se penso al volume come una funzione di r Qual'è la derivata del volume rispetto a r? Questo è 4 pi greco r quadro Quindi questo qui lo posso scrivere nella forma di differenziale In cui dico che il differenziale del volume E' uguale a 4 pi greco r quadro Per r Quindi questo è la mia stima La mia stima è che il delta volume E' uguale a 4 pi greco ri quadro per delta ri Eccolo qua Quindi questo è il differenziale del volume Iesimo E questo è quello che è L'integrando Cioè quello che diventerà l'integrando E uno deve solo organizzarsi qua Togliere dalla sommatoria tutto quello che è Ok Allora Datemi di non sbagliare Vediamo un attimo Intanto portiamo fuori l'un mezzo Poi portiamo fuori Facciamo delle cose una volta 1 su 4 pi greco Questo va al quadrato Epsilon 0 va al quadrato Ho già fatto una parziale Penso che i più di voi hanno già visto E il risultato è pieno Quindi ho portato fuori questo Poi porto fuori il qu quadro Poi porto fuori questo quadro più greco Qua E credo di aver preso tutto Giusto? Per la sommatoria Ho ri sotto al quadrato Quindi 1 su ri alla quarta Facciamola Ho un ri al quadrato sopra E un ri alla quarta sotto Ho preso tutto Ho fatto tutto? Ho preso tutto? Quindi non ho fatto cancellazioni Ho portato fuori Adesso lo cancelliamo Quindi questo c'è Questo è al quadrato L'epsilon è al quadrato La q va al quadrato Questo è 4 più greco Ho preso tutto Quindi questo 4 più greco Si mangia questo qua Questo si mangia quello E quindi mi rimane questo E D'accordo? Quindi ho Ho q quadro diviso Diciamo 1 mezzo Poi ho 4 più greco Aggiungo 0 E poi avrò il mio integrale Che è così Questo qua E quindi mi rimane 1 su r quadro Quindi r Dal raggio D'accordo 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 Questo quanto è? Cos'è questo? E meno 1 su x E dovrò valutarlo Da r a infinito Quando faccio così Vuol dire che sto cercando Di sbloccarmi È un momento di L'avete notato In questi mesi? Io l'ho notato Guardando il filmato Cos'è che faccio? E questo cos'è? È 1 su x Giusto? Perché 1 su x Meno 1 su infinito Questo ovviamente È una bestia in matematica Però lo coppiamo Quindi questo E quindi Questo è 1 su r Si intende? E vedete che questo è 1 mezzo Q quadro Diviso C Ok? Che è quello che voleva si dimostrare Perchè Questo qua 1 mezzo Q quadro Diviso C Può essere scritto come 1 mezzo Q quadro C cos'è? C è Q Diviso V O delta V Ok? Quindi vedete Quindi vedete che questo Ah, non mi conviene fare questa posizione Mi conviene modificare quella Se no vado a non uscire con questo Faccio questo qua Guardate Quindi Qua uso che C è uguale a Q Diviso V E quindi Q è uguale a Cv Quindi questo quadro lo scrivo come Cv al quadrato diviso C E quindi questo è 1 mezzo a Cv Quindi abbiamo verificato stamattina che Questa cosa qua Sia per la forma delle piastre Condensatore a faccia a piada parallele Che alla sfera isolata Sono due esempi di condensatori Ve la sentiresti di fare da soli Perchè lo chiederò all'orale Qual è il Dimostrare Di nuovo Che l'integrale Di volume Ci siamo capiti no? Di dimostrare questo Con il cavo classiale Di cui ho parlato stamattina Quindi Dovete stazzare Al vostro cavo classiale Questo è il cavo classiale In un certo lunghezza L E dov'è il campo elettrico? Il campo elettrico è nell'intercapettine Come abbiamo già cercato di discutere Quindi visto in sezione Se questo è l'elettrodo interno E questo è l'elettrodo esterno Il campo elettrico è così Il campo elettrico è radiale qua Con simmetria cilindrica però Quindi il campo elettrico qua dentro Come abbiamo visto già tempo fa Il campo elettrico qua dentro Ho una dipendenza che è Due che è Cos'è? E' lambda Dove lambda è la densità di carica lineare Che ho distribuito su questo filo interno Su questo cilindro interno E' lambda Non si legge qua Perché c'è lambda Diviso Due Pi greco Epsilon zero R Questo è il campo elettrico che è nell'intercapettine Quindi calcolate Calcolate il Un mezzo Epsilon zero Modulo quadri E' moltiplicato per il volume Per l'intercapettine Come organizzerete il volume? Come i cilindri prima Così Non vi pare? E' lo stesso conto Fatelo Mi fa bene? Allora Schermo Così vi faccio vedere Che questa roba c'è Allora Fai di cosa prima? Immagini No Documenti E prima devo tirare lo schermo Uno Bambini C'è che Si C'è La Za Glutti Un Grazie. Allora, all'altro gruppo abbiamo già un po' visto su PowerPoint, non mi ricordo se ve l'ho fatta vedere a voi, ma è solo per far vedere che molte delle cose che ho fatto sono qua, quindi se avete preso degli appunti schifosi o non riuscite a trovare con facilità sui libri che avete, questo è il PowerPoint, io non lo faccio in dettaglio, lo scuola velocemente per far vedere il contenuto, di questo PowerPoint, la versione di oggi mi è stata messa in rete, c'è un paio di slide in più rispetto a quelli che avevo dato il giorno, allora questo è il PowerPoint, come vedete è morto l'anno dall'inizio della prima guerra mondiale, allora il teorema di analisi che dovete verificare, dovete verificare, mi raccomando, durante l'orale magari farò l'orale 2-3 persone alla volta e a una persona gli metterò, guarda tu stai sull'estremo sinistra della lavagna e ecco il tuo, verificami questo, quello si metterà a lavorare mentre farò le domande agli altri, potrei farlo su uno scritto, sappiatelo fare, quindi questo è il teorema applicato all'elettromagnetismo, quindi vedete che i vari pezzi sono l'esifara dell'esifara dell'esifara per Maxwell, trasponendo e dividendo, ecco che salta fuori il famoso teorema di Poitin, ok? Questo è un teorema dell'elettromagnetismo, vale sempre, eccolo qua, si metterà in forma locale e in forma differenziale, d'accordo? I tre pezzi, questo è il pezzo di cui vi ho brevemente già parlato, cioè che la forza di Loretz ci dice una cosa interessante, che il campo magnetico non fa lavoro, ok? Il campo magnetico non fa lavoro, non cambia lo speed della particella, quello che cambia, che fa lavoro è la parte elettrica, quindi guardate con molta teorema dell'energia cinetica, vi ricordate? Se l'energia cinetica non cambia nel tempo, se la forza è perpendicolare alla velocità, cosa che è per la forza magnetica, no? Perché la forza magnetica è sempre perpendicolare alla velocità, quindi la forza magnetica non fa lavoro, invece la parte elettrica per eccellenza farà lavoro, d'accordo? Allora, leggete con molta calma, vedete questo è il pezzo che abbiamo già discusso stamattina, e leggete con molta calma, forse questo merita di essere visto Supponete di avere nel volume, in un certo volume, in un certo istante, dei campi elettrici e magnetici, è una configurazione di cariche e correnti Il campo elettromagnetico complessivo sposterà le cariche e le correnti, perché è fatto il rumore? Perché è scritto? Allora vado avanti e lo vedete voi Leggete quello che è in rosso, le cariche e le correnti sono essi stessi delle sorgenti di campo e quindi contribuiscono a creare i campi complessivi Il campo risultante è il campo dovuto a sorgenti più il campo creato dalle particelle stesse che stanno rispondendo al campo delle sorgenti In altre parole la configurazione è corresponsabile del proprio cambiamento, se avete due cariche e lasciate la presa Cambieranno la loro configurazione, no? Perché si respingono oppure si attraggono, ok? E' banale questo Quindi a partire da un certo istante, il lavoro speso nell'intervallo a delta t per ridistribuire le cariche e le correnti In una nuova configurazione è dato da, fate l'integrale, perché quel pezzo da su è una potenza Non lo leggo, c'è questo, c'è questo, c'è questo, c'è questo, c'è questo, c'è questo, siete antipatici quindi vado avanti Questo l'abbiamo appena fatto, questo l'abbiamo appena fatto stamattina, questo è il caso, il cavo qualsiasi L'abbiamo appena fatto, significato del teorema di Ponity, non state zitti quindi lo leggete da voi Eh, questa è la situazione ragazzi, eh? Mi avete rotto gli zererei Leggete, leggete, queste cose le abbiamo fatte, il campo trasversale, il raggiamento L'abbiamo fatto in classe, questo conto non lo chiedo, questo conto non lo chiedo Questo conto dell'increspatura non lo chiedo, ma guardatela, guardate questo conto Perché alla fine c'è una formula che io vi chiedo, che è questa qua, dov'è? Eccola là, che la potenza persa per il raggiamento, c'è quel segno meno, è la carica al quadrato L'accelerazione del quadrato, diviso 6πΦ0 c al cubo, quella formula ve lo chiedo Se volete, se non siete bravi a imparare a memoria le cose, o diventa più facile quando avete un'idea da dove viene Un conto, allora guardate la dimostrazione, d'accordo? Non avete, non ve lo chiedo, però la formula si Questa è una cosa che voglio dire, quindi state zitti per protesia Una particella elettrica accelerata perde energia di movimento, quantità di moto, momento della quantità di moto Manca la parola di moto qua, quindi dovrò mettere un'altra versione in rete Quantità di moto Quando viene accelerata, la particella perde energia, cambierà la sua quantità di moto e cambia anche il momento della quantità di moto In particolare, un oscillatore carico perde energia, avrete un'oscillazione smorzata L'oscillatore carico è smorzato, questa è la formula che vi ho detto E c'è un esempio per un piccolo smorzamento, avete che l'accelerazione Questa è l'accelerazione di un oscillatore armonico, no? Quindi mettetelo qua e vedete che c'è una dipendenza alla quarta potenza E in questa forma, non ve lo dico perché non ho tempo, c'è la spiegazione del perché quando il sole va giù Abbiamo il sole che è arancione e rosso e perché il cielo è blu Invece il sole, quando lo vedete puntualmente in avanti, ha i colori dei tramonti Questa forma qua racconta il colore del cielo perché è blu e perché poi avete il colore che avete durante un bel tramonto Qualcuno di voi forse lo troverà su un libro, ma la spiegazione matematica è questa qua Quindi abbiamo la propagazione di informazione e energia ma anche di quantità di moto Quindi quando c'è un'increspatura nel campo elettrico va energia ma va anche quantità di moto e anche un momento di quantità di moto Ok? Questo è il disegnetto, leggete con calma Questo merita di essere detto, l'ho detto all'altro gruppo ma non l'ho detto a voi Due corpi materiali in interazione inducono l'uno nei confronti dell'altro accelerazione antiparallele O no? Guardate qua, pensateci un attimo La carica 2 è questo signore qua, lui si sta spostando in questo istante in questa direzione La carica 2 risente solo il campo elettrico creato dalla 1 La carica 1 risente sia del campo elettrico creato dalla 1 Che, forse c'è un errore di stampa qua, creato dalla 2 Tutte queste versioni in rete Ovviamente no? Che questo è Leggetelo e meditate, le mettiamo in visualizzazione In questo caso non ci sono due particelle ma c'è un terzo attore, il campo elettromagnetico Nella fisica di Newton A voi avevate l'interazione diciamo istantanea tra una particella e l'altra Nell'elettromagnetismo quando qualcosa viene a 1 C'è impiega del tempo per l'informazione arrivare all'altra particella Quindi se volete che la quantità di moto si conservi Dovete non solo considerare quello della particella e dell'altra particella Ma anche quello del campo E' questa roba qua che si conserva Il campo porta via la quantità di moto che viene a mancare dalla prima E che la 2 non ha ancora acquisito Pensateci un attimo La quantità di moto delle particelle non è una costante Si conserva invece quella delle particelle più quello del campo E quello del campo, ve lo dico, non lo chiederò ma questa è cultura generale Quella del campo è questa roba qua Guardate questo qua è molto simile E' praticamente imparentato a quel vettore di pointing Questa è la quantità di moto per unità di volume Perché dovete integrare su un volume per avere una quantità di moto E' la quantità di moto per unità di volume del campo elettromagnetico E il campo elettromagnetico esercita una pressione Esercita una pressione C'è una quantità di moto che viene da questa increspatura del campo elettrico E questa idea che, proviamo un attimo cosa è scritto qua Un'ombra elettromagnetico trasporta informazione, no? Faccio il segnale Morse, mamma butta la pasta Trasporta energia, quantità di moto, momento di quantità di moto Questo è la quantità di moto per unità di volume Questo è il momento di quantità di moto di tipo orbitale per unità di volume Cultura generale Però l'idea che la luce fa pressione E' un'idea che vogliono usare per fare una specie di veliero Che navighi nel sistema solare Sospinto dalla pressione della luce che viene dal sole Se voi avete una superficie sufficientemente grande Che intercetta l'onda elettromagnetica emessa dal sole Verrà sospinto il veliero E quindi voi, esattamente come una barca a vela Orientando la vela potete navigare a destra, a sinistra E certe volte anche risalire la corrente se siete bravi Il motivo col veliero, con la barca a vela E' per via della legge di Bermudy Non funzionerebbe qua, no? Questo lo lascio leggere a voi Un attimo, forse è il caso di guardarlo Immaginate questo è un volume Questo colto l'avevamo fatto tanto tempo fa Quando parlavamo del concetto di flusso di densità di corrente elettrica Vi ricordate? Avevamo una superficie E vi chiedevo in un lascio di tempo Quali cariche passeranno dall'altra parte della superficie? Quelle che erano non troppo lontane Perché dovevo moltiplicare la loro velocità per il tempo E quelle dove la velocità per l'intervallo di tempo Era una distanza inferiore Riuscivano a passare attraverso la superficie Vi ricordate quel colto? Eh? E' lo stesso tipo di colto qua Guardate un attimo Questo è il vettore di pointing di un'onda piana La mettete dentro, fate il colto E l'abbiamo fatto l'altro giorno Vabbè, questa è la quantità di moto per unità di volume L'energia che sbuca attraverso la faccia Di una faccia di area A in un intervallo di tempo T E tutta l'energia che sta dentro questo parallelepipedo Che è profondo quanto? La velocità per il tempo che stiamo aspettando Quindi l'energia che è sull'estremo inferiore In questo tempo delta T riesce a passare alla superficie E' esattamente lo stesso tipo di conto che abbiamo fatto Per quale cariche passavano attraverso la superficie Ok? Quindi quando uno fa il conto L'energia, la quantità di energia che sbuca attraverso la faccia Nell'intervallo delta T è questo conto qui Dove vedete il flusso del vettore di pointing attraverso la superficie A Per delta T Quanta carica Quanta carica Quanta carica Dove è il cancellismo? Lo vedete? Forse sulla lavagna? Forse per terra? Dove è il cancellismo? E' spedito il cancellismo Più che adesso è la prima parte Eccola La legge della conservazione dei cancellini Non spariscono, si spostano Se questa era la vostra superficie E questo è il vostro parallelepipedo Qua c'è un portatore di carica con la densità di corrente J Quanta carica passava dall'altra parte? Quanta carica Quindi la quantità di carica che passava era J prodotto scalare A per delta T Cioè delta Q su delta T Cioè delta Q su delta T Che in ultima analisi è la corrente E' uguale a J prodotto scalare A La corrente La corrente è il flusso della densità di corrente Questa diventa energia L'energia che passa E' uguale a Trascrivo questa formula nel nuovo linguaggio La quantità di energia Quindi il simbolo usato per energia La W Che non è proprio il più felice Mi accorgo adesso Ma W sta per work Quindi di nuovo Guardate il powerpoint e non perdetevi un bicchiere d'acqua Quindi voglio trascrivere questa formula Con il linguaggio dell'energia Invece di quanta carica è passata in un intervallo di tempo Scrivo quanta energia è passata in una quantità di tempo Quanta energia nel senso inglese è l'intervallo di tempo Per il flusso non di J attraverso A ma di S attraverso A Vedete che è la stessa formula Matematicamente sta esprimendo lo stesso concetto Avete un parallelepipedo E un intervallo di tempo Questo parallelepipedo quanto profondo è? E' V per delta T Ovviamente nel contesto di un'onda elettromagnetica La V è la velocità della luce Quindi avete un parallelepipedo che ha una faccia A E ha una profondità che ha una velocità per un tempo Quindi in questo intervallo di tempo Tutto quello che è a sinistra passa a destra Ok? In questa formula qua sto parlando di cariche che sono qua e che si sposteranno di qua In questa formula sto parlando di un'energia che in un intervallo di tempo a delta T Si sposterà tutta l'energia in questo parallelepipedo va di là In qual'è la direzione? S Quindi J è la densità di corrente di portatore di carica S potete pensarla come la densità di corrente di energia Ok? E dovete pensare alla fortissima analogia che c'è tra questa formula e questa qua Quando questa qua l'avete capita Questa qui come si dicono gli americani Is a piece of cake È un pezzo di torta Quando questa l'avete capita Questa è una... Riparte questo suono È una puttanata Capite questo? Questa è una ovvia estensione Gli americani invece di dire puttanata dicono piece of cake Un pezzo di torta Guardate qua Questa è l'energia attraverso la faccia di questo parallelepipedo In base alla formula che ho dato qualche trasparenza fa Quella sulla quale... Il concetto dalla quale è basato questo specchio di veliero C'era questa formula qui Che è la quantità di moto e la priorità di volume Che viene dalla teoria di Maxwell Quindi non ve lo dimostro È un dato che viene dalla teoria di Maxwell È un dato classico Quindi prendo questo Prendo nota Guardate com'è fatto P Questa è la quantità di moto per unità di volume P è uguale a Epsilon zero E prodotto B Guardatelo Adesso prendiamo il risultato di poco fa E vedete qui Che questo qua può essere... Qual è la quantità di moto che sbuca? E questa è la formula Che può essere scritta così Li confrontate questi due Se volete E ottenete questa qui Che la quantità di moto trasportata dall'onda È uguale all'energia trasportata dall'onda Diviso C Tutti e due vanno nella stessa direzione Z E questa formula è estremamente importante Cioè Viene dall'elettromagnetismo di Maxwell È un risultato classico È un risultato classico questo Questo è un legame classico Gioco però un ruolo importantissimo A fisica moderna Questo chi è? È Beppe Grillo da giovane Il fotone è un quanto di eccitazione Del fotone forse avessi dovuto parlare È un pezzo di nozionismo Che secondo me dovreste sapere Il fotone è un quanto di eccitazione Del campo elettromagnetico Di nuovo la parola eccitazione è tecnica Non dovete mettervi a ridere Trasporta grandezze cinematiche Cosa? Energia? Quantità di moto? Aumenta quantità di moto? Sia di tipo orbitale che di tipo intrinseco Lo spin Un esempio di momento di quantità di moto orbitale È la Terra che gira attorno al Sole Si chiama momento di quantità di moto Prodotto R per P Orbitale Perché la Terra gira attorno al Sole Ma la Terra ha un altro momento di quantità di moto Che è il fatto che gira sul proprio asse Quello è chiamato momento di quantità di moto intrinseco Quindi la rotazione della Terra attorno al proprio asse E in un certo senso il suo spin La parola spin alcuni di voi forse l'hanno sentito In chimica non si riesce a capire la struttura degli atomi Senza la parola spin Giusto? Principio di esclusione di Paoli No? Gli elettroni sono come delle piccole trottole Che girano se stesso Questo movimento anche se il fenomeno quantistico È molto complicato Descriverlo Cioè anzi qualcuno ha detto che nessuno capisce C'è la meccanica quantistica La matematica pensa per gli esseri umani Ma l'elettrone ha un momento a quantità di moto intrinseco Ma non potete pensarlo come il pianeta Terra Che robita su se stesso Purtroppo Quindi L'energia E Questo è and Il modulo della quantità di moto P Di un fotone Sono legati dalla relazione E uguale Pc E uguale P per C È la stessa formula E diviso C è uguale a P E diviso C uguale a P E uguale a Pc Quindi La relatività di questo signore Generalizza la relazione In generale L'energia E la quantità di moto di una particella È data da una relazione che si scrive così Dove questo m pe dice 0 Si chiama massa riposo Questa formula Vale per le particelle che hanno massa riposo 0 Perché se questo termine non ci fosse Se questo non ci fosse difficile da oscurarlo Perché ovviamente la vedete sulla mia mano Avrei bisogno di qualcosa di verde qua Sarebbe E uguale Pc Invece quando la particella è dotata Di quella cosa che si chiama massa riposo La formula non è questa Questa vale per i fotoni Questa vale per qualcosa tipo L'elettrone, il protone I neutrino non hanno ancora capito Se ha massa o no Se avesse massa 0 Avrebbe una relazione di questo tipo Se ha massa diversa da 0 Ha una relazione di questo tipo Allora questa relazione qua Non lo do in programma Però merita a dire qualcosa Guardate qua Questa è la relazione per una particella Massa riposo diversa da 0 Pensate a un triangolo Dove l'ipotenusa è l'energia L'energia è fatta in due pezzi L'energia di movimento Quella vecchia amica Che è chiamata energia cinetica E c'è un'energia M0c² Che è l'energia di riposo L'ipotenusa è l'ipotenusa al quadrato Uguale alla base al quadrato Più questo cateto al quadrato Abbiamo diversi scenari Guardate nel quadro questo qua Non quello rosso a destra Quella a sinistra Per particelle che hanno massa diverse da 0 Avete rettangoli così 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 Questa è la base dove appare m0c quadro Questa è chiamata l'energia di esistenza Questa è la quantità di moto moltiplicata per c e l'ipotenusa è la somma dell'energia di movimento più l'energia di esistenza Quando il cateto dovuto alla quantità di moto è piccolo rispetto all'energia di esistenza avete fisica non relativistica Quando invece questo cateto è importante vedete che è due volte questo qua non vale più newton Questo è talmente lungo questo cateto che ovviamente quando è così lungo che non vi accorgete del parallelismo si dice ultra relativistico un fotone non ha massa riposo quindi questo triangolo collassa perché non ha un cateto e quindi se volete l'ipotenusa è uguale a questo cateto è uguale a Pc è una formulina molto carina è un disegno molto carino che i fisici usano spesso quando insegnano queste cose ai propri studenti Allora qua è una cosa che invece voglio fare perché questa domanda è una domanda è una domanda negli scritti dati nel passato e alcune persone non l'hanno saputo fare alcune persone non l'hanno saputo fare il contesto è questo per la fisica classica intendo Maxwell aggiungo Maxwell continuate a leggere mentre io salvo e visualizzo l'energia trasportata da un'onda elettromagnetica M vuol dire elettromagnetica è data dal quadrato dell'ampiezza del campo elettrico questo è l'energia che attraversa questo è un... forse dovrei scriverlo adesso lo farò durante la pausa questi sono watt al metro quadro devo scrivere qua perché questo è il prodotto dell'energia dentro il volume e quanta energia è passata attraverso... lo faccio adesso questo si chiama l'intensità e l'intensità sono watt al metro quadro attenzione sono joule al secondo al metro quadro quindi per sapere quanta energia è passata devo moltiplicare per l'area attraverso la quale l'energia è passata questo coseno quadro vedete che c'è questo pezzo qui il coseno quadro oscilla tra 0 e 1 perché il coseno oscilla tra meno 1 e 1 e il coseno quadro oscilla tra 0 e 1 quindi la dipendenza della frequenza non è utile dovete pensarci per la fisica classica l'energia media è utile dipende solo dall'ampiezza del campo elettrico al quadrato eccolo qua non dalla frequenza quindi c'è una previsione classica per ionizzare un atomo non basta usare un'onda elettromagnetica di qualsiasi frequenza e aspettare abbastanza a lungo quanto il tempo necessario per accumulare l'energia netta necessario per ionizzare l'atomo questa è la previsione classica invece se fate gli esperimenti non è vero questo alcuni di voi hanno sentito parlare dell'effetto fotoelettrico l'effetto fotoelettrico è che se voi mandate una luce rossa ok? con una frequenza piccola non grande quindi una lunghezza d'onda grande su un metallo non succede niente di particolare se invece su quel metallo mandate una luce con una frequenza molto elevata sufficientemente alta cominceranno a saltare fuori gli elettroni ed è il principio sulla quale funzionano molti dei quando il vostro garage sta per chiudere e c'è la fotoelettrica che voi mettete un piede, una gamba o una macchina si interrompe il circuito e il garage non si chiude anche gli ascensori qua funzionano così quindi l'esito di esperimento è che per ionizzare servono onde con frequenza minima d'accordo? per frequenze troppo basse non succede niente frequenze sufficientemente alte saltano fuori gli elettroni invece la previsione classica era che se voglio far saltare un elettrone basta che io aspetti abbastanza lungo e se voglio che succeda più rapidamente per una data frequenza mando un'ampiezza sufficientemente grande perché questa è quanta energia sta incidendo su un'area per unità di tempo questi sono watt al metro quadro quindi quanta energia arriva al secondo dipende da quanto è grande il campo elettrico non dipende dalla frequenza quindi io potrei mandare una luce rossa molto intensa e aspetto salta fuori un elettrone voglio aspettare meno mando un'onda sempre rossa con un'ampiezza più grande aspetterò meno perché il flusso di energia è più alto accumulerò l'energia necessaria per ionizzare l'atomo in un tempo minore questo è quello che Maxwell prevede ma non succede, c'è un errore, c'è qualcosa che non va l'altra cosa interessante è che l'atomo si ionizza senza alcun ritardo misurabile quando voi avete un'onda con la frequenza sufficientemente alta e la mandate su un pezzo di metallo gli elettroni saltano fuori subito, non dopo mezz'ora non è che lentamente il metallo accumula energia e finalmente salta fuori l'elettrone appena voi accendete il flusso di fotoni saltano fuori gli elettroni non c'è un ritardo misurabile quindi le previsioni classiche sono assolutamente false servono lunghezze d'onde sufficientemente alte e l'elettrone salta fuori non dopo un tempo di accumulo ma salta fuori in tempi che non si riescono a misurare quindi vorrei dire istantaneamente ma capite che è un concetto misurabile questo è l'esercizio che io ho dato e delle persone l'hanno risvolto leggetelo per cortesia potrei darlo a fine giugno prendetevi molto seriamente, leggetelo per staccare un elettrone da un atomo di potassio serve un'energia di 2,3 elettrovolt cos'è un elettrovolt? subito l'energia necessaria si chiama energia di ionizzazione fornite quella opportunamente e staccherete l'elettrone si considera una sorgente puntiforme di luce di potenza 1 Watt è un atomo di potassio posto a distanza di un metro dalla sorgente l'atomo accumula energia questo è un ragionamento classico accumula energia investito come è dall'onda elettromagnetica che è sferica che emana dalla sorgente quanto tempo serve per accumulare l'energia necessaria alla ionizzazione si supponga che il raggio dell'atomo sia di un Einstrom quindi ragionate con un fisico classico in cui dice che da qua sta uscendo l'energia per unità di tempo c'è un Watt cosa vuol dire? che c'è un Joule al secondo che sta fuoriuscendo da questo punto quindi un Joule al secondo dovete immaginare dovete immaginare se questo è l'assorgente e questo è l'atomo di potassio questo è l'atomo di potassio immaginate una sfera di raggio un metro quanta energia sta fuoriuscendo da questa sfera al secondo? un Joule questa ha una sorgente di 1 Watt vuol dire che da qua sta uscendo un Joule al secondo quindi tutto questo Joule al secondo sta attraversando questa superficie ma qual è la superficie? la superficie ha una superficie di 4 pi greco r quadro d'accordo? questa è la superficie che ha un raggio di un metro e l'atomo di potassio è un piccolo oggetto qua di un Heimstrom di diametro o raggio di raggio un Heimstrom che è una piccola frazione di tutta la superficie non vi pare? quindi quell'atomo di idrogeno sta intercettando una piccolissima frazione di un Joule al secondo un Joule al secondo è l'energia che attraversa tutta la sferona quanta energia al secondo sta incidendo su questo piccolo bersaglio che dovete pensarlo come un disco di raggio un Heimstrom la frazione è utile per il calcolo del tempo che vi serve non vi pare?